Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha espresso un parere fortemente negativo rispetto al progetto presentato da Enel per la costruzione di una centrale idroelettrica nel territorio tra le province di Isernia e L'Aquila. Il progetto, che avrebbe interessato i comuni di Pizzone, Montenero, Valcocchiara, Alfedena e Castel San Vincenzo, è stato giudicato inaccettabile a causa del suo potenziale impatto negativo sull'ambiente e sugli ecosistemi locali. Il presidente del Parco, Giovanni Cannata, ha sottolineato come l'opera rappresenterebbe una grave minaccia per habitat, specie animali ed equilibrio idrogeologico del territorio. Le osservazioni presentate dal Parco, frutto di un'analisi approfondita condotta da esperti, evidenziano come la realizzazione della centrale sarebbe in contrasto con le finalità di tutela e conservazione proprie di un'area protetta. La decisione del Parco si inserisce in un'area in un contesto di forte opposizione da parte delle comunità locali e delle associazioni ambientaliste. Nei mesi scorsi i comuni di Rocchetta, Volturno, Barrea e Alfedena avevano presentato ricorso contro la proroga della sospensione del progetto ritenuta illegittima. La vicenda si appresta ora a entrare nel vivo con l'attesa della decisione dei giudici amministrativi che dovranno pronunciarsi sulla legittimità della procedura.